Ciao a tutti, oggi volevo condividere con voi una sensazione strana che negli ultimi giorni non mi sta facendo chiudere occhio e che mi ha riportato alla mente un sogno che io facevo qualche anno fa, un sogno ricorrente, molto inquietante. Vi spiego quello che è accaduto. Io nell'ultimo periodo sto leggendo i libri di Lovecraft, uno scrittore che davvero sto apprezzando. Io sono una fan dei racconti di Edgar Allan Poe, quindi lì siamo proprio sull'horror e quindi sto apprezzando anche i libri di Lovecraft. Io li sto adorando. E prima di leggere il Necronomicon, che è questo libro qui che vedete, ho deciso di acquistare i miti di Cthulhu. Che è praticamente questo libro di Lovecraft. I miti di Cthulhu non sono altro che racconti, condivisioni, che ci parlano di persone che hanno avuto delle esperienze particolari proprio con queste, con questi antichi. Nei libri di Lovecraft si parla di entità molto antiche che addirittura esistevano prima della venuta dell'uomo. E in questi racconti ci si sofferma soprattutto su Cthulhu, questo essere con il volto quasi da colpo gigante, che tra l'altro è raffigurato appunto sulla copertina. Nel libro vengono anche mostrate varie immagini, ecco, interessanti comunque, molto molto interessanti. Se siete fan dell'horror, dei racconti, del mistero che, diciamo, vi immergono in quell'atmosfera cupa, misteriosa, io vi consiglio di leggere i libri di Lovecraft. Devo dirvi che su questo autore ci sono tantissime cose che si dicono. Per esempio, si dice che in realtà questi racconti contengano delle verità. Quante volte sentiamo parlare di alieni, extraterrestri, rettigliani? Ecco, proprio su questo volevo soffermarmi. In molti racconti, quando si fa proprio la descrizione di queste creature, la descrizione coincide con quella che oggi viene fatta dei rettigliani. Le storie che sono contenute in questo libro sono una più affascinante dell'altra, anche se l'atmosfera è cupa, sono una più affascinante dell'altra. E io sto leggendo questo libro, come vedete non ho ancora letto molto, perché appunto ho cominciato a leggerlo da pochissimo. E proprio ieri io sono rimasta a bocca aperta quando sono andata a leggere dei passi che mi hanno tantissimo fatto riflettere. In questo caso mi riferisco alla storia che si chiama, che è presente nel libro e che si chiama il modello di Pikman. Questo artista che raffigurava comunque delle creature molto, molto inquietanti. Questo artista, io non vi svelo nulla del modello di Pikman, perché queste storie, questa raccolta di storie sono interessantissime, ovviamente non vi voglio spoilerare nulla. Comunque, che cosa succede? Che questo artista riusciva a raffigurare su tela queste creature in modo così realistico da farle quasi sembrare vere. Ed effettivamente nei suoi quadri c'era qualcosa che proprio non andava. Ad un certo punto si legge nel libro, ovviamente sono qui solo per leggervi questi passi perché poi voglio collegarmi al mio sogno ricorrente. Qui è scritto Dio come sapeva dipingere quell'uomo. C'era un lavoro intitolato Incidente nella Metropolitana, quindi Incidente nella Metropolitana era uno dei nomi che Pikman aveva dato a questi suoi dipinti. Ascoltate un po' la descrizione di questo quadro. Io, ragazzi, non ho mai letto i libri di Lovecraft prima d'ora. Sono stati un regalo, quindi li sto leggendo adesso. Avevo sempre voglia di leggere Lovecraft, però poi non lo so. Ho messo avanti altre letture, anche quando compilavo le liste. Scrivevo sempre altri titoli. E tra l'altro, se vi posso consigliare un libro bellissimo, ma è anche, bellissimo e anche dire poco, è La Fondazione di Isaac Asimov, che sarebbe praticamente questo mattone di libro che conta più di mille pagine. Questo libro, La Fondazione di Asimov, ovviamente io ho La Fondazione Il Ciclo Completo, che comprende tutti i volumi in uno. È stupendo, vi consiglio di leggere questo libro. E se vi va, se ovviamente ne avete anche la possibilità, comprate I miti di Cthulhu. Io volevo leggere il Necronomicon, però poi informandomi che cosa ti consigliano di fare. Ti consigliano di leggere I miti di Cthulhu prima di leggere il Necronomicon, perché altrimenti non si riesce a comprendere il Necronomicon in modo giusto. Quindi, ad un certo punto, arrivo a leggere questo. C'era un lavoro intitolato Incidente nella Metropolitana. Si vedeva un'orda di esseri abominevoli che, emergendo da qualche catacomba sconosciuta attraverso una spaccatura nella metropolitana di Boylston Street, si avventurava sulla folla assiepata sulla banchina. Quando io ho letto queste righe, che per voi potrebbero non significare nulla, a me sono venuti i brividi, anche in questo momento i brividi. Perché anni fa io facevo un sogno ricorrente, cioè sognavo delle situazioni spiacevoli. E tra l'altro di questo sogno vi avevo accennato qualcosa in video precedenti. Io sognavo delle situazioni spiacevoli. Vi ho detto, prima che la situazione riguardante il virus si diffondesse nel mondo, io ho sognato, ho fatto un sogno davvero molto inquietante, che tra l'altro vi ho raccontato qui sul secondo canale. Ed effettivamente poi tutto quanto si è verificato. Quindi mi capitava di fare questi sogni in cui accadevano delle cose molto strane. E ad un certo punto ho cominciato a fare dei sogni che si concludevano sempre con questo boato che preannunciava la venuta di qualcosa di inquietante. Ma io mi svegliavo sempre prima. Non riuscivo effettivamente a vedere il mostro o comunque le creature. Non sapevo nemmeno cosa significava quel boato. Dentro di me la sensazione era che quel boato preannunciava la venuta di qualcuno o di qualcosa. Ma non ho mai visto questo qualcuno e non ho mai visto la cosa che appunto il boato preannunciava. La sensazione nel corso di questi sogni era sempre molto negativa, ma i sogni erano reali. Era come se fosse reale le mie sensazioni, il mio correre, il mio avere paura, il mio essere terrorizzata era reale. Ora, sì, si trattava di sogni, ma credetemi che questi sogni, quando il sogno ti sembra reale e in più si va comunque a sperimentare una situazione spiacevole, questi sogni in particolare ti rimangono per sempre. Io vi ho raccontato di un sogno che appunto ho fatto quando ero piccolina. Non so se l'ho raccontato qui o se l'ho raccontato sul primo canale. Il sogno in cui entravo in questo cimitero e vedevo tre lapidi con sopra la mamma, il papà e il fratello di mia nonna. E poi ad un certo punto, alla fine del sogno, vedevo aprirsi gli occhi. Insomma, questo è un sogno che io vi ho raccontato, eppure ho sognato questa scena quando ero piccolina. Questo per dirvi che quando si sogna qualcosa in modo molto, molto realistico, beh, questo sogno rimane dentro di noi. In questi sogni io sperimentavo, come vi dicevo, delle situazioni spiacevoli. Ed un sogno è praticamente identico alla descrizione che ho letto in questo libro. Quando si parla di questo libro, di questo dipinto realizzato da Pickman, io sono rimasta, boh, esterifatta. Non sapevo che cosa dire, vi dico la verità, non sapevo davvero che cosa dire. Perché io non sono una persona che crede alle coincidenze, e quindi mi sono chiesta cavoli. Sicuramente non ho subito l'influenza di Lovecraft, visto che non avevo mai letto il suo libro prima. Quindi com'è possibile? Nel lavoro di Pickman, intitolato Incidente nella metropolitana, si parla appunto di un'orda di esseri abominevoli che, emergendo da una qualche catacomba sotterranea, si riversano su queste persone. Io, in uno di questi sogni, ero proprio in una metropolitana, perché si vedeva che era una metropolitana, e eravamo appunto sottoterra. E ricordo che in questo sogno c'erano tantissime persone. Già l'atmosfera era molto negativa, era come se le persone si trovassero lì per un motivo preciso. E nel corso del sogno, io ero lì perché dovevo aiutare qualcuno, quando ad un certo punto ho visto emergere, da non so dove, delle spaventose creature. Creature davvero, davvero spaventose, che hanno cominciato ad attaccare la gente, a squartare i corpi, a strappare arti. Io me lo ricordo quel sogno, è stato veramente, veramente orrendo. Ma nel sogno, mentre io guardavo queste creature che facevano a pezzi le persone, sapevo che quelle creature non erano niente in confronto a quello che stava per arrivare. Io non sapevo cosa o chi stava per arrivare. Era la sensazione. Io avevo proprio la sensazione che quelle creature non fossero nulla in confronto a quello che stava per arrivare. E io ricordo tutto di quel sogno, è davvero inquietante, perché io ricordo queste creature che si avventavano sulle persone, ricordo la mia paura, il mio terrore, io che cercavo di aiutare. Io che ero lì per un motivo. Nel mio sogno io ero lì per un motivo, anche se non riuscivo ad inquadrare quale fosse esattamente questo motivo. Anche perché comunque sì, cercavo di aiutare le persone, ma molto spesso mi ritrovavo anche a rimanere immobile, perché queste creature erano veramente enormi. Che cosa accade? Ad un certo punto io sento un boato, un rumore ma così inquietante che ora se dovessi paragonarlo a qualcosa non saprei davvero a cosa paragonarlo. Era un boato assordante, inquietante, profondo ed intenso che ti entrava proprio dentro. E ricordo che nel sogno, dopo aver sentito questo boato, io mi sono subito svegliata e avevo la sensazione, mentre ascoltavo questo boato, che appunto qualcosa stava per accadere. Io nel sogno, quando ho sentito questo boato, ho pensato, ecco, sta arrivando. Ma chi o cosa, ragazzi, non ve lo so dire. A parte il dettaglio del boato, il mio sogno, quello che io ho sognato anni e anni fa, è identico, è proprio identico alla descrizione che viene fatto del dipinto della metropolitana di Pikman. È identico, ragazzi, perché io mi ritrovavo in una metropolitana, ad un certo punto ho visto queste creature emergere da non so dove. Qui si parla di catacombe, ma io non posso dirvi che fossero delle catacombe o meglio, che queste creature venissero da delle catacombe. Io semplicemente ho visto queste creature arrivare e attaccare le persone. Credetemi, ho voluto condividere questa sensazione, perché innanzitutto io adoro i libri, ma quando leggo i libri scopro sempre cose nuove. E riconoscere un'esperienza da me vissuta, anche se in sogno, in un libro che non avevo mai letto prima, è stata un'esperienza strana. Molto, molto strana. È stata un'esperienza davvero forte, perché stavo leggendo questo libro e ad un certo punto sono arrivata a leggere quelle righe e sono rimasta così. Con il libro davanti, non sapevo che cosa dire, non sapevo che cosa pensare. Ora, io, dopo questo sogno, ho sognato anche altre scene in cui mi trovavo sempre in situazioni molto, molto spiacevoli e questi sogni si concludevano sempre con questo boato. E la cosa particolare è che io nel sogno non riuscivo mai ad andare oltre questo boato. Mi svegliavo sempre prima che questo qualcosa o questo qualcuno arrivasse. Questa particolarità del boato che, appunto, si ripete nel corso di molti sogni mi ha fatto tanto riflettere. Io ci penso tanto ai sogni. Penso che a volte ci sia qualcosa dietro. Penso che ci siano persone molto sensibili anche a ciò che ancora deve accadere. Per esempio, in molte situazioni ci sono persone che sognano letteralmente magari episodi che poi si verificano davvero. Quindi è come se andassero a prevedere un po' il futuro. Anche mia nonna mi ha raccontato tanti sogni che ha fatto e che poi effettivamente si sono verificati nella realtà. Penso che ci sia qualcosa che più, che meno ha il potere di non so, di intercettare questi segnali che giungono e che poi forse noi interpretiamo attraverso i sogni. Perché anche io mi sono ritrovata a sognare delle cose che poi effettivamente si sono verificate nella realtà. Quindi quando si parla di sogni sì, probabilmente alcuni sono frutto dell'inconscio l'inconscio che si riversa in questi sogni che ci fa vedere o sperimentare le nostre paure le nostre ansie e preoccupazioni. Ma penso anche che ci sia qualcosa in più a volte. perché altrimenti come si spiega? Non lo so. Fatemi sapere se avete anche voi avuto un sogno ricorrente se avete anche voi sentito dei boati nei vostri sogni se avete mai vissuto esperienze sempre nel sogno di panico terrore. voglio conoscere quello che è il vostro pensiero cosa ne pensate anche di questa coincidenza? Leggere la descrizione di un sogno che hai fatto in un libro che non hai mai letto questa mi mancava mi mancava anche perché devo dirvi che nell'ultimo periodo quando ho cominciato proprio a voler leggere Lovecraft molte persone mi hanno detto lascia stare quei racconti sono molto inquietanti sono scritti di magia nera io non ascolto mai il parere degli altri quando voglio leggere qualcosa la leggo semplicemente la leggo e non mi aspettavo tutto questo è come se qualcosa forse mi non so mi abbia spinta ad approcciarmi ai testi di Lovecraft io sto scoprendo tantissime cose tantissime cose interessanti e su questo scrittore se ne dicono tante ragazzi alcuni dicono addirittura che in alcuni testi in alcuni racconti contenuti nei suoi libri abbia raccontato delle diciamo degli episodi realmente accaduti ora diffidate però se volete una lettura che vi tenga proprio lì incollati vi consiglio di leggere questi libri se non siete persone che si fanno molto molto coinvolgere poi nella realtà perché io conosco persone che quando leggono magari un libro horror poi si lasciano suggestionare un po' troppo e quindi tutto questo compromette anche la loro vita quotidiana quindi se siete persone che si fanno suggestionare in fretta non vi consiglio di leggerli però se volete una lettura molto molto misteriosa sì vi consiglio non lo so ditemi un po' che cosa ne pensate ho intenzione di condividere con voi anche altri sogni molto interessanti per il momento fatemi sapere quello che è il vostro pensiero e soprattutto se anche a voi è capitato di sentire questi boati o addirittura di leggere la descrizione di un vostro sogno in un libro vi mando un bacione un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima